Siamo in via Segantini per documentare un fatto che da un po' di anni a questa parte è sotto gli occhi di tutti quelli che vivono o frequentano il centro storico di Arco e cioè il fatto che ormai il centro sia diventato una sorta di outlet village per l'arrampicata. Infatti passeggiando si può notare che sono molti i negozi che si occupano appunto di articoli sportivi in particolare appunto dedicati proprio all'arrampicata. E questo costringe molti negozi del centro a chiudere i battenti e trasferirsi altrove per cercare zone più proficue dal punto di vista commerciale. L'ultimo negozio in ordine di tempo che sta per chiudere i battenti e trasferirsi in via Santa Caterina è il negozio qua alle mie spalle, tendaggi, manifatture e lombarde. Questo è uno dei negozi storici di Arco? Certo, questo è un negozio storico, mi hanno consegnato la targhetta appunto qualche tempo fa perché è stato aperto nel 1959 dal signor Aldo Andreotti è aperto come merceria, come si usavano tanti anni fa avere un po' tanti articoli comunque aveva tanto tessile, poi nel 1975 è stato acquisito praticamente dalla famiglia Galiziori di Trento dove attualmente esiste ancora negozio delle manifatture ombarde nel centro storico di Trento e io sono arrivato a gestire questo negozio nel 91 esattamente e sono circa 24 anni che sono qui che gestisco questo negozio. Come mai questa decisione adesso di scappare dal centro e di andare in via Santa Caterina? Ma sì, diciamo che scappare è un po' eccessiva la cosa io ho dovuto fare questa scelta lavorativa perché appunto in 24 anni della mia esperienza nel centro storico di Arco ho vissuto tutti i periodi però devo dire che nell'ultimo tempo, negli ultimi tempi, negli ultimi anni Arco, soprattutto qua nel centro storico, si è evoluta moltissimo con l'outdoor e a me personalmente è venuto a mancare un certo tipo di clientela alternativa, diciamo così E i tuoi clienti affezionati, diciamo, cosa ne pensano di questa tua scelta sofferta? Ma, beh, diciamo che, come dici te, i clienti affezionati sicuramente non sono felici non sono felici per niente, soprattutto i clienti che vivono qui in centro storico perché chiaramente si sono visti mancare un altro negozio, un punto di riferimento della storia di Arco perché come avete già potuto vedere qua nella via Segantini ne sono venuti a mancare diversi negozi in questi anni per cui anche questo, visto che era un negozio di riferimento, un punto di riferimento per tante generazioni non sono sicuramente contenti, qualche bel cliente mi è venuto proprio in negozio a tirare le orecchie diciamo così, perché anche qui sorgerà, ahimè, un negozio per l'outdoor non dalla rampicata, un altro articolo, ma comunque un altro sportivo grazie